Musica E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo video e bentornati qui in un nuovo episodio di Fortnite Sempre in compagnia del buono e caro Go E me sta pronti per catapultarci in game per cercare di sfruttare questa occasione in cui siamo riusciti a ribeccarci su Fortnite Signori quindi prima di lasciarvi la partita vi invito a passare sulla pagina Instagram Link in descrizione, bannerino, dati che compare in sovraimpressione Che vi dice qual è il nome del profilo da andare a seguire per restare sempre aggiornati Perché pubblico qualcosa ogni tanto anche lì Vi lascio a questo episodio e noi ci vediamo alla fine per i saluti finali Fuoco davanti Eh ma non c'ho Davanti dove? Eh qua da me Questi giocano nel pompo però Ma dove tu? Ah dietro Wow l'ho messo a terra con no scope Fatto poi riprendilo prendilo che arriva l'altro Ecco dietro No No Madonna Ivi shotgun Oh Eh 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 Ma non mi muovo a one shot 12 12 E comunque qua c'è quello l'ho ammazzato con no scope e non ho preso mai col pompo con l'altro Ottimo Sei una pippa Sei una pippa C'è tantissimo Che schifo Che schifo Un'eternità Later Per eonti quindi Adesso si eh Ma mettiamoci in sei scontato Siamo scodati Ammiranza Ammiranza Ormai Siamo armaggi Ci manca la mire Quella non è colpa dell'ultimo Quella è tutta Sopra Alla cartaforma Sì dai Ma qua che dici si abballa lo stesso ombrello? No No Solo lungo la a termini scudi io ho un paire blu e revolver quello nuovo che non so come spara quello nuovo è forte ma non so come spara quindi prova ok come si hanno rialzato qualcuno perché c'è stata tutta la costruzione vabbè sarà roba da inizio sicuramente o no davanti sotto 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 appena usciti 35 35 con revolver alto 35 o 70 ma chi è il campara? loro? lo stanno? eh stanno là sotto eh stanno dietro la montagna probabilmente adesso no probabilmente sicuramente stanno dietro la montagna se lo vi sia andato dietro la montagna o no io ho fatto 35 35 70 eccoli laggiù oh passi oh 70 70 70 dobbiamo andare noi madonna questo è proprio il stronzo numero uno proprio ecco lì ecco lì ah inversione una terra bello 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 ok rapidi ok uuuh portate trovo a stare in sta montagna? no c'è gente c'è gente già sulla montagna sacro dalla parte sinistra a terra arriva l'altro ma che cazzo mettere a sfuggisca un pò alex qualcun'altra cerchina a occhi no ecco ecco questo ragazza cosa cazzi nostri ma io non ho capito questo qua come mi ha fatto a prendere tre volte e tipo si acchia ma il mini scudi ce l'hai? il mini scudi si ma per cura a me no ho le bende io tieni ma mica arrivava qualcuno vabbè ma dipende molto dei divisi si si abbiamo questo lo ammazzar senti che faccio le granate me ne tolgo ah no ok le porti no no non l'ho preso no 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 i mini scudi usamo un safe gente che arriva a quello gli è caduta della roba sotto sarebbe interessante una rapia qua da me qua da me alla casetta qua sotto la madonna da dove piglio no 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 ma che cazzo ma come non l'ho preso Sotto lì stavano scomodo Chuck addirittura Occhio granate Oh le scelte No rimbalzano indietro Ah laggiù Altri 24 24 24 Madonna che c***o mi sono sparato In un modo perfetto Prova un attimo scende No dove hai Ma no quello che c'era qua Non c'è niente di buono Oh che c***o Un sacco di gente Alex Oh a terra Bello Ho preso al volo Dai bianca bianca a terra La Si 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 Stanno sotto Stanno sotto Avanziamo leggermente Oh uno l'ho laserato Uno l'ho laserato 48 Oh Vola Vola Bianca Verde Ma noi ci abbiamo al lunch pad Possiamo andare Volendo Quelli sono i tuoi nemici Si Eh no Sono timido a due ancora Hai messo al lunch pad? Si Lo c***o l'hai messo Ah ok Eh Sono lì Oh è morto uno 2v2 2v2 Pagliare Ritornare Pagliare Ritornare Esplosivi Niente Ah C'ho le granate Scendiamo noi Io c'ho la lancia granate C'hai i razzetti? Oh Ho eliminato Oh qua dentro Bello Bella così Ecco qua E anche questa questione l'abbiamo fatta Ah questo è stato carino Questo si dai Non mazza di 3 euro va bene Eh Ah io 5 Si va bene Va bene Perfetto perfetto Bene Ci voleva un po' di riscaldamento Ci voleva No tu non hai ringraziato L'autista Vabbè sti cazzi Ladies and gentlemen Si va a concludere Con un'altra vittoria Del duo bestiale Questo episodio Il duo bestiale Non delude mai O meglio Quasi mai E non dovete deludere Neanche voi Quindi vi lasciate un like Un commento Iscrivervi se non l'avete ancora fatto Noi ci vediamo al prossimo Episodio di Fortnite E ci vediamo Ad un prossimo video Sempre qui Sul canale Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti